Le vogliamo tutte! Ma tu sei veramente un... del califato dell'Isis Le vuole tutte lui, le vuole Però, a parte tutti gli scherzi, davvero ragazzi, cioè... Non ve l'ho detto, grazie, però è... È sotto in tenda, è sotto in tenda, veramente Negli ultimi giorni abbiamo girato un pochino nell'ultimo mese Magari tu provi un brano, sei in auto, provi una cosa Poi si accende la radio, giri delle stazioni Mi sento veramente miracolato a poter fare quello che faccio Le nostre cose, le mie cose, le vostre cose in questo momento in Italia Quindi davvero, grazie Ma questo è davvero... Da me per voi, perché a volte mi dice la mattina Mi dice, ma cazzo, ma io faccio questa cosa qui Dove è che invece ci sono delle persone distrubate altrettanto Grazie a tutti i distrubati altrettanto Perché è forte il nome, distrubati altrettanto L'anno prossimo faccio un partito, facciamo un culo così a tutti Il momento c'è dentro Beh, vedi che devi rovinare tutto sempre Ha ragione tua mamma Ma lui è un bravo ragazzo, però deve rovinare sempre tutto sempre Quindi sono tuo figlio Sai che anche sempre tutto sempre è un bel nome per il movimento Sempre tutto sempre Votereste di più, distrubate altrettanto o sempre tutto sempre? Perché tu sei un po' alternativo Guarda che sempre tutto sempre andiamo presidenza della Repubblica Allora sempre tutto sempre, ma devo No, 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 non andremo mai Viva la figa e vinci Ma no, ma vinci Quindi c'è sempre qualcuno di un altro concerto Che rimane intrapolato dalla sera prima La sera prima c'erano i I Control Reset Cancel, non c'erano, chi mi chiamano? I Control Z I Control Z I Control Z È Influenza È Influenza È Influenza È Influenza